Dopo otto anni di latitanze è stato arrestato a Barcellona il regista dei traffici internazionali di droga dal Sud America a Salerno. È stato fermato infatti a pochi chilometri da Barcellona Vincenzo Cinquegrana, latitante che deve scontare tre anni, un mese e nove giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di droga, inserito dal 2013 nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi. Cinquegrana è stato catturato dai carabinieri di Napoli in collaborazioni con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Al latitante i carabinieri sono arrivati monitorando il web, riuscendo così ad individuare dei profili social che hanno consentito di ricostruire e documentare le sue relazioni e le sue abitudini. Grazie al continuo scambio informativo con la Polizia Spagnola, gli investigatori sono poi riusciti ad individuare Cinquegrana a pochi chilometri da Barcellona dove l'uomo viveva da tempo con la compagna. Il 56enne è ora in carcere in attesa del provvedimento di estradizione.